Torniamo in studio. La Facoltà di Architettura e il labirinto, in collaborazione con l'associazione Tolos, organizza la presentazione del libro dello storico Antonio Budruni, I giorni del massacro, Itri 1911, la camorra contro gli operai sardi del fino editore. Il libro sarà presentato dallo stesso autore in compagnia del giornalista storico Pasquale Chessa. Sempre nel giardino della Facoltà di Architettura, alle 21, gli altri due appuntamenti, quello di venerdì 3 agosto, dove sarà presentato il libro del magistrato Gianni Caria, la badante di Bucarest, dialogherà con l'autore la professoressa Antonietta Mazzette, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche di Sassari. Chiude infine il fine settimana Marcello Fois, che nella serata di sabato 4 agosto, in compagnia di Bianca Pizzorno, presenterà il suo ultimo libro Nel Tempo di Mezzo. E sabato 4 agosto, alle 21.30, presso la Cattedrale di Santa Maria, si terrà il nono concerto della Rassegna Organistica Internazionale Sardinia Organfest. Si esibirà il maestro Joan de la Rubia, attuale organista titolare della Sagrada Famiglia di Barcellona. L'evento è stato presentato ieri mattina con una conferenza stampa. Abbiamo intervistato il direttore artistico della Rassegna, il maestro Giovanni Solinas. Sudibito dopo i telegiornali andranno in onda degli speciali realizzati da Stefano Sore e Paolo Calareso sulla presentazione dell'evento e sul corso di Organistica tenutosi a Tepio Pausania. Ieri mattina nella sala della Fondazione Meta di Piazza Portaterra si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del concerto dell'organista internazionale Juan de la Rubia, attuale titolare dell'organo dell'imponente Sagrada Famiglia di Barcellona. Il maestro suonerà presso la cattedrale di Alghero il 4 agosto. Il concerto rientra nella manifestazione organistica Sardinian Organfest, seconda edizione organizzata dall'Associazione Culturale Accademia Organistica Sarda. Il programma musicale spazierà dal barocco al contemporaneo. La stagione concertistica, diretta artisticamente dal maestro Giovanni Solinas, è stata inaugurata il 15 luglio scorso a Sassari e ha proposto a seguire un importante tour organistico itinerante in Sardegna, nel quale 23 giovani provenienti dall'Italia e dall'estero hanno condiviso concerti e masterclass tenuti da illustri docenti. I luoghi che sono stati messi in risalto sono stati i principali centri organistici della Sardegna. Il 4 agosto anche quello storico della cattedrale di Santa Maria di Alghero, proprio con il maestro Juan de la Rubia, sarà protagonista. E' stato il maestro Giovanni Solinas, direttore artistico del Sardinian Organfest, a parlare dell'evento e di questa seconda edizione. Alla conferenza di ieri mattina erano presenti anche l'assessore comunale Romina Caula, per la provincia l'assessore Enrico Daga e il direttore della Generalità di Catalunia di Alghero, Joana Deglie. E ora sentiamo l'intervista con il maestro Giovanni Solinas, direttore artistico dell'evento. La stagione concertistica Sardinian Organfest, che si sta svolgendo in questi giorni in Sardegna, è una manifestazione organistica che valorizza tutti gli strumenti presenti nella regione. Qui ad Alghero abbiamo l'organista della Sagrada Famiglia di Barcellona, Juan de la Rubia, che suonerà nella nostra cattedrale questo sabato 4 agosto, alle ore 21.30. Il concerto è il nono della stagione concertistica e il concerto che abbiamo qua ad Alghero è uno degli organisti internazionali. Gli altri organisti che si sono avvicendati in questa rassegna organistica sono tutti organisti note nel panorama musicale. Ecco, pensiamo all'organista del Duomo di Milano, Emanuele Vianelli, Alessio Corti, docente presso la Musico Schule di Ginevra, Enrico Vicardi, docente presso il Conservatorio di Como, piuttosto che Adriano Falcioni, docente del Conservatorio di Sassari. Io come direttore artistico sono molto entusiasta di questa rassegna. Avere una seconda edizione in un periodo in cui la crisi economica è sempre in aumento, ma si spera che ciò migliori, è qualcosa di interessante, di dar spazio alla cultura è sicuramente un segno di riconoscimento verso questa realtà. Per lo sport, spazio ai motori. Giovanni Martinez, pilota di carta algherese, si affaccia all'automobilismo. Grazie a dei test effettuati sulla pista di Vallelunga nel Lazio dal 9 al 12 luglio scorsi, il 19enne pilota locale tramite questi test della Scuola Federale della Cixai ha conseguito il patentino che gli permette di poter correre e quindi gareggiare nelle categorie come la Formula 3 e la Renault. E proprio in quest'ultima parteciperà il prossimo anno, sotto contratto con il team piemontese GSK Motorsport, al campionato Alps a livello internazionale, il cui inizio è previsto a marzo del 2013. Intanto a novembre sarà impegnato già con i test che si svolgeranno tra le piste di Barcellona-Mommelò, Vallelunga e Misano. A settembre parteciperà al Mondiale di Kart. Intanto Martinez continuerà quindi a coltivare la sua prima passione, proprio il kart, con il quale ha imparato a stare in pista e sul cale gareggia da nove anni. Ma sentiamo l'intervista realizzata proprio con il pilota. Allora diciamo che io quest'anno ho partecipato al corso federale organizzato dalla CICSAI a Vallelunga. È stata una bella esperienza e diciamo che è stato l'inizio della mia carriera diciamo automobilistica. Perché infatti là ho preso moltissime nozioni importanti per poter iniziare la mia carriera automobilistica. Là sono stato scelto dalla CICSAI per fare il test a Vallelunga e ho guidato tre tipologie di macchine in modo da prepararmi per la prossima stagione. Il risultato del test è stato molto positivo. Infatti ho girato con dei tempi molto vicini a quelli della gara precedente. Infatti diciamo che gli istruttori sono stati molto contenti del test e spero quindi di ottenere chiaramente gli stessi risultati anche l'anno prossimo nel campionato Alps della Formula Renault. Poi in futuro spero anche di passare anche di categoria e passare magari a delle auto ancora più veloci, auto migliori rispetto al Formula Renault. Comunque diciamo che come passaggio dal kart alla vettura da corsa è stato un passaggio ottimo. Anche se sono un po' in ritardo come passaggio perché 19 anni per iniziare la carriera automobilistica è un po' tardi. Ho già un contratto con un team per il campionato Alps Formula Renault e poi credo che chiaramente continuerò a fare le gare più importate in kart. Infatti parteciperò all'Europeo e al Mondiale KF2. È possibile magari faccio anche qualche gara con la carta a marce. Però comunque diciamo che l'anno prossimo concentrerò tutti i miei sforzi sulle vetture da corsa. E' quindi in Formula Renault. Per informazioni il 389 87 11 333 oppure scrivere una mail all'indirizzo algeromarathon.it Era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo e vi ringrazio come sempre per averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie.